Femmina penso se penso l'umano è un verso della ballatta delle donne di Sanguinetti che ho voluto mettere come citazione iniziale di presentazione delle note di regia di Misericordia perché secondo me è un inno alle donne ed è una poesia che parla di culla, di pancia, di pace, non di guerra dell'umano come appunto un'umanità, la donna come rappresentante dell'umanità. Per me l'umano ha a che fare con la sua sconfinata solitudine e questo spettacolo racconta la sua sconfinata solitudine perché è il racconto di tre donne che in qualche modo devono cercare di salvare se stesse ma soprattutto questo ragazzino che decidono di crescere perché la madre è morta nel momento in cui lo fa nascere. Misericordia è uno spettacolo che racconta un interno familiare disagiato al limite del decoro e della dignità umana e questa famiglia vive in una specie di utero perché per me Misericordia è un parto, il luogo di Misericordia è un ventre, è un ventre oscuro. Questo ventre oscuro però ha a che fare con qualcosa di terribile, anche se c'è la vita dentro comunque ha a che fare con qualcosa di terribile. Non è il fascino che mi spinge a parlare di questo degrado ma una necessità di esplorare questo mondo per poterlo portare alla luce anche se non ce l'abbiamo davanti agli occhi e allora il gesto misericordioso è da parte dello spettatore secondo me che deve, che accoglie e si prende cura di questo parto. Siccome questo spettacolo parla di un problema serio che andrebbe insomma affrontato in qualche maniera forse dando delle scorte alle donne che vivono in condizioni allucinanti dentro le famiglie e non hanno la forza di denunciare certi atti brutali che subiscono quotidianamente non solo violenza fisica ma anche violenza psicologica eccetera ma anche il modo in cui viene raccontata la violenza degli uomini sulle donne il modo in cui viene passata l'informazione è atroce quando si dice viene uccisa una prostituta e non si dice uccisa una donna chi se ne frega se faceva la prostituta o faceva la casalinga o la sarta non è quello il problema, il problema non è il lavoro, il mestiere il problema è che è stata uccisa una persona. Questo spettacolo non ha scenografia Questa non è una novità perché insomma i miei spettacoli generalmente non hanno scenografia ma questo meno che gli altri nel senso che l'unico elemento, diciamo gli unici elementi che questo spettacolo ha quattro sedioline di legno pieghevoli tutto il resto sono, possiamo definire, munnizza come direbbero le nostre tre protagoniste munnizza intendo cose, pezze vecchie, insomma vestiti lacerati frammenti di giocatto, di frammenti di cose, di oggetti ormai consumati da buttare ecco ci sono delle cose che potrebbero essere da buttare ma noi non buttiamo e le teniamo dentro questa giostra grazie a tutti grazie a tutti